Dunque dipannata una intricatissima matassa, Gelbison piegata nel finale, è stata la vittoria del gruppo, finora la più importante. Il Pescara ha confermato di avere un'anima, secondo posto a meno 3 dalla vetta e numeri a dir poco entusiasmanti. 12 partite, 29 punti, il miglior Pescara degli ultimi 50 campionati della stagione 1973-74. 4 punti in più dell'irripetibile Pescara di Zemana 2011-2012 e della Pescara di Delio Rossi che nella stagione 96-97 incassò la prima sconfitta proprio alla dodicesima giornata sul campo della Venezia. Trend straordinario che garantirebbe ampiamente il primato nei gironi A e B dove le 4 capolista hanno rispettivamente 23 e 24 punti. Eppure c'è chi ha fatto meglio, appunto la corazzata Catanzaro, ancora imbattuta, 32 punti in 12 gare, 10 successi e 2 pareggi. Scontro diretto in programma all'Adriatico domenica 27 novembre. Prima però sempre in casa il Messina dell'ex Auteri e la Turris in trasferta nel posticipo di lunedì 21 novembre. Altro dato significativo, lo scorso anno dopo 12 giornate la Reggiana guidava la classifica del Girone B con 28 punti, uno in meno del Pescara, targato Alberto Colombo.